Pennette cremose, mortadella e pistacchio. Per quattro persone buttiamo 320 grammi di pennette. Tagliamo a cubetti una bella fetta di mortadella spessa, circa 150 grammi. Facciamo soffriggere mezza cipolla tritata. Aggiungiamo la mortadella a cubetti e facciamola rosolare un paio di minuti. Quando la pasta è quasi cotta, aggiungiamo 150 grammi di formaggio spalmabile con un po' d'acqua di cottura, così si forma una bella cremina. Scoliamo la pasta e ripassiamola in padella. E in ultimo, granella di pistacchi. Semplici e gustosissime, provatele!